Salve a tutti, io sono Mary e questo è Florio Caffè, il nuovo format dove intervisterò esperti studiosi per parlare delle persone che hanno maggiormente influenzato la vita e le opere di John Florio. Prendete una tazza di caffè, forse una tazza di tè, un bicchiere di vino e buona visione. Stay Resolute, bye!